Allora io vi devo dire la verità, ho un ricordo diciamo stupendo di televisione, era Lucio Battisti, eravamo in quegli anni 70 in cui c'era bisogno dell'impegno e in una trasmissione televisiva della Rai Lucio Battisti è in mezzo a una platea di giovani e gli chiedono, aveva appena cattato una canzone stupenda che è Emozioni e i giovani gli dicono ma qual è l'impegno che c'è in questa canzone, qual è l'impegno del cantautore? Il cantautore dice ma scusate ragazzi col suo modo di fare che non riesco certamente né a imitare né a rendere quanto è forte così come l'ha fatta lui, ma quale impegno? Io sono un cantante, canto, vi devo emozionare, non pensate, non chiedete a me l'impegno, nell'era dell'impegno un grande cantautore diceva io non voglio l'impegno, oggi artisti e cantanti sono tutti impegnati e quello che a noi ci fa specie è che questi artisti, cantanti impegnati hanno spesso una faccia impegnata e un privato che dovrebbero nascondere. Kevin Spacey, secondo le ultime accuse che devono essere tutte provate perché non per il fatto che sia un grande uomo di spettacolo famoso in tutto il mondo si deve dare per acquisito la sua presunta colpa, però Kevin Spacey è stato uno, viene oggi considerato uno dei grandi molestatori, fa un coming out e dice sono gay, però forse quando 20 anni fa ho molestato un ragazzo di 13 anni che lo aveva accusato di aver dormito nello stesso letto, era ubriaco, non si ricordava e poi dopo ci sono tutti quei pettegolezzi alla mani pulite che arrivano uno dietro all'altro e si pensa addirittura che abbia fatto una cosa incredibile in un suo yacht a Capri questa estate, boh staremo a vedere, ma Kevin Spacey non è solo un molestatore, è un uomo che dice voglio dare un'opportunità agli adolescenti in difficoltà e ha fatto una fondazione per questo, mettiamoci d'accordo tra fondazione e atteggiamenti privati, questo signore è un grande islamista, è considerato l'uomo che parla dell'islam moderato, si chiama Tariq Ramadan, si è dovuto dimettere, lo hanno dimesso oggi dall'università di Oxford perché avrebbe stuprato due sue allieve, stuprato due sue allieve, mollato Oxford, questo chi non lo conosce, Bonovox, guardatelo straordinario, tutti voi conoscete Bonovox, non si può paragonare forse a Battisti ma è certamente più ricco di lui, 1,5 miliardi di euro il suo patrimonio in società offshore, io me la sono appuntata questa frase di Bonovox perché è favolosa, dice voglio che i paesi del terzo mondo crescano, la soluzione è facile, i paesi ricchi devono cancellare i loro debiti, ma se lui non paga le tasse nei paesi ricchi perché sono usciti questi famosi paradise paper, come fa a pagare le tasse, non pagare le tasse e pretendere che il suo Stato debba aiutare i paesi poveri? Iniziamo a pagare un po' di tasse verrebbe da dire, Tim Cook, il mago di Apple, quello che ha reso grande l'iPhone e tutti i telefonini che sono entrati nelle nostre tasche, identico alla commissione che lo indagava, mettiamola così, sulle tasse pagate da Apple che è una società ricchissima, dice non abbiamo nessuna società nei paradisi fiscali dei Caraibi, aveva ragione perché è stato trovato attraverso questi nuovi papers che i soldi li teneva nell'isola della Manica, erano sempre paradisi fiscali ma non erano nei Caraibi, un genio straordinario! L'ultimo caso, la conoscete, è venuta da noi, Miriana Trevisan e ha denunciato una molestia sessuale da parte di un attore, di un regista tra i più famosi italiani, è una denuncia, bisognerà verificare se è vero, dobbiamo sempre dare il beneficio del dubbio ma l'accusa è fortissima nei confronti di Giuseppe Tornatore. Allora non c'è una morale in quello che diciamo, cerchiamo di capire poi se queste accuse verranno verificate dai fatti perché è la cosa veramente fondamentale prima di distruggere uomini, carriere e che queste cose vengano provate, ma l'idea che c'è una doppia vita, quella pubblica e quella privata, forse è uno dei temi che questa sera vogliamo affrontare. Buonasera.